Questa è la nuova moda per andare in bici, i calzini particolari, sopra la divisa da ciclista, questi calzini, questi sono fatti con il richiamo della bandiera dell'America, uno in un modo e uno in un altro. Questa è la moda, è la moda del 2017, lanciata da Maurizio Morelli, quindi i fans seguite, ora vi faccio dei tutti i calzini che ho comprato, particolari, eccoli qua, fluorescenti, questi qui con lo smile, con il sorriso, questi qua colorati, verdi, viola e rosa, tutti particolari, mettete pollice in su e scrivete quali vi piacciono di più, e ancora non sono finiti, ne ho altri, anche questo è bello con lo scheletro, votate, votate!